Il video diffuso da Matteo Salvini tramite i suoi social che raffigura il giudice, la giudice apostolico mentre manifesta nel 2018 per lo sbarco dei migranti che erano sulla cosiddetta nave diciotto. Questo video è stato diffuso da Salvini e commentato da Lega per dimostrare che hanno odio a dire la giudice non era imparziale. Non si riesce a capire quale sia l'origine di questo video. Matteo Salvini e la Lega non hanno spiegato da dove arriva, sia il fondato sospetto che ci porta ad affermare che chi ha fatto quelle riprese era qualcuno che stava in mezzo alla polizia. Era lui stesso un poliziotto e se era un poliziotto siamo quindi di fronte a una fuoriuscita di materiale riservato dagli archivi della coltura del biliminale che viene utilizzato a fini politici.